Allora signori, come detto, questa sera torniamo con un unboxing, torniamo retro gaming style con una delle nostre consoline tecnico-tattiche che andiamo a vedere ogni tanto, andiamo a spulciare qua e là tra le consoline che ci permettono di fare un po' di sano e sportiveggiante retro gaming. Oggi signori siamo con, eccola qui, la Powkiddy RGB 10 Max 3, Powkiddy è un marchio che attualmente è la prima volta che la utilizzo, qui nella parte inferiore, a parte che c'è questo il beige che non ci fa vedere benissimo, ci sono le varie colorazioni. Questa qui, come detto, si parla di una console abbastanza economica sostanzialmente perché siamo sul centinaio di eurozzi, visto che poi vi faccio vedere anche la schermata per quanto riguarda le caratteristiche e quant'altro direttamente dal sito. Il sito è, come sempre, MatchDI che ci accompagna e che ci supporta con l'invio per il test di queste console, quindi sempre su MatchDI potete trovare il linkino con punto esclamativo unboxing e come sempre vi ricordo che c'è lo sconto del 17% se utilizzate il codice QTA. Il codice QTA lo potete utilizzare sostanzialmente su tutto il loro catalogo di prodotti, quindi sia se vi interessa questa o se vi interessa un'altra delle tante console che hanno il codice sconto vale ugualmente. Comunque, metto un po' più in alto la cam così magari si vede un po' meglio. Questa qui è la confezione della PowKid RGB 10 Max 3. Andiamo a unboxare. Io in realtà, vabbè, già avevo aperto, testato, io come sempre facciamo l'unboxing insieme perché poi è sostanzialmente una prima prova, io non le aggiorno, non faccio niente, non cambio niente. Quindi per farvi vedere esattamente come arrivano perché questi video che vedete, come detto, sono i primi test per il semplice fatto che la maggior parte delle persone anche che mi chiedono di queste console, naturalmente non è che siano mega esperti così come non c'è bisogno di essere dei mega esperti, ma semplicemente volete vedere come sono queste console, come vi arrivano a casa e se potete utilizzarle senza starci a smanettare. Perché un mega pro che già sa installare cose, cambiare sistema operativo, fare mille e mille cose, non è che si va a vedere l'unboxing o altro, conosce, sa fare, eccetera, eccetera. Quindi il mio è un primo avvio per i neofiti della serie. Vi interessa una console per giocare a retro game? Prendete, bella che arriva, tranquilla, senza problematiche, senza dogana tra l'altro. Allora andiamo a aprire la parte inferiore, abbiamo il cavo di ricarica USB2 USB-C, grande, bravissimo, bravissimo, non avrei saputo fare meglio, anche perché non lo so fare meglio. Qui abbiamo una brevissima guida, introduttica con i vari comandi, che ci terremo a disposizione, molto molto semplice in questo caso, un po' più scarna rispetto a quelle che vediamo negli altri... Mi do un'occhiata anche io, giustamente, per vedere se ci sono cose particolari, ok. Perfetto, vabbè, questo ce lo teniamo così magari qualche scorciatoia che poi andiamo a provare, perché non mette a fuoco, incredibile, straordinario. Ce la teniamo da parte, qui abbiamo la cosa con la microSD che io in realtà ho già messo all'interno della console, che troviamo qui dentro. Però, allora, il cavetto USB non credo che serva, comunque ne abbiamo altri nel caso dovessimo avere la necessità di ricaricarla. E andiamo a vedere la consolina, eccola qua. Poi vi spengo la luce dietro per i riflessi, eventualmente magari la spegniamo dopo che passiamo a giocarci, ma per il momento, pure se ci sta il riflesso sullo schermo, non è un problema. Ok, ma tra l'altro mi hanno mandato, oltre alla consolina da provare, anche la confezio, come sempre, munitevi anche di queste qui. Sul sito, come sempre, ci sta la console di riferimento, con poi anche il banale porta console, non c'è niente particolare. Qua potete mettere cavi e qua console. E a posto così, almeno se ve la volete portare in giro, state parati, state parati. Allora, la console, come vedete, è una console con uno schermo 16 noni, perché naturalmente quando andiamo a vedere queste cose, poi naturalmente quello che vediamo principalmente è lo schermo. Ci sono quelle con schermo 4 terzi, quelle con schermo 16 noni. Per quanto riguarda la parte frontale, appunto, abbiamo questo schermo che ha una risoluzione di 720p, se non sbaglio. Poi andiamo a ricontrollare bene tutte le specifiche, in realtà perché ne sto provando diverse, quindi non mi vorrei sbagliare tra nulla e l'altra, quindi poi andiamo sul sito a vedere tutte le caratteristiche. Allora, qui nella parte superiore abbiamo il tasto Select, la croce direzionale, che sembra fatta anche abbastanza bene, devo dire la verità, perché poi queste sono comunque console abbastanza budget, soprattutto anche in questo caso. Abbiamo due analogici, poi abbiamo i classici 4 tasti e il tasto Start. Nella parte superiore abbiamo i due grilletti, che in realtà sono tasti, sono a forma di grilletto, però sono tasti secchi sostanzialmente, così come questi qua, quindi L1 e R1, poi chiamateli come volete. In realtà qui si chiamano L1 e R1 effettivamente. Questi qua sono un po' piccolini, la console è abbastanza compatta, cioè nel senso se vedete la mano è piuttosto compatta la console, nel senso è grande come una mano, un po' di più. Sempre nella parte superiore abbiamo il tasto di accensione, il tasto del reset, abbiamo l'uscita HDMI, abbiamo il tasto più e meno per il volume. Poi nella parte inferiore abbiamo, credo che qui non riesco a vedere, anche se è in trasparenza, la scocca poi ci sono diverse versioni. Sto cercando di capire se queste feritoie sono degli speaker, è possibile, possibile ma da qui non li vedo in realtà se ci sono degli speaker sostanzialmente, anche se è in trasparenza. Poi come vedete abbiamo una porta USB-C OTG, un'altra porta USB-C, la porta USB-C che qui c'è scritto, vedete, per la ricarica. Questa qui, quella OTG, ad esempio se ci volete collegare un pad, di solito con la porta OTG funzionano anche gli hard disk esterni, eccetera eccetera. Poi abbiamo l'uscita per le cuffie, il jack 3.5 per le cuffie e due micro SD. Questa qui, TF OS, OS è per il sistema operativo, questa è per i giochi, TF Game come si legge. Quindi sostanzialmente avete uno slot per il sistema operativo e una seconda SD, micro SD per mettere i giochi. Quindi, in modo tale che se fate qualche cacciara con i giochi, il sistema operativo non va ad essere intaccato. Ora, signori, prima di accendere il tutto e andare a spippolare, vi faccio vedere un pochino anche sul sito, così andiamo a vedere tutte le varie caratteristiche. Quindi, come sempre, vi faccio un attimino di panoramica anche da questo punto di vista per quella che è la console. Allora, 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 vediamo se facciamo così. Allora, aspetta che lo metto a tutto schermo così vedete anche meglio. Vediamo anche meglio. Eccola qua. Allora, come sempre, vi ricordo che avete il linkino per quanto riguarda il comando in chat, se signori, il comando in chat. Abbiamo, abbiamo, aspettate che mi devo spostare in questo caso la camera, effettivamente io non vedo cosa stiamo vedendo. Allora, abbiamo il buon PowKid RGB 10 Max 3, 99 dollari e 99 dollari, la versione transparent blue, che è questa qui che abbiamo. C'è anche la versione gialla, con la versione che vedete qua, 16 giga, no games. È perché la SD del sistema operativo è da 16 giga, quindi è la versione senza giochi sostanzialmente. Poi c'è quella con 64 gigabyte, poi giochi, e quella da 128, fino ad arrivare appunto il prezzo massimo è 119 con una micro SD da 128 giga. Come sempre vi ricordo per queste situazioni che di base voi per i giochi dovete avere il gioco originale per avere le ROM. Loro vi mandano la micro SD piena, zeppa di giochi, e poi vedremo. Ma sempre per la legalità la proprietà dovete avere la... bravi, bravi, lo sapete, lo sapete, è inutile che vi lo dico, lo sapete, lo sapete. Ma noi lo diciamo per la piena legalità. Poi va, ma andiamo così, va bene. Dopodiché, dopodiché, allora abbiamo qui le varie caratteristiche. Come detto, schermo IPS da 5 pollici, è un 16 noni, è un 720p, quindi ricordavo bene, 1280x7,20. La batteria è da 4000 mAh e poi 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 altre cose interessanti che abbiamo, vabbè, colorazione ok, lo schermo l'abbiamo visto. Poi abbiamo, vabbè, la risoluzione sono le cose che andiamo a vedere un po' di più sostanzialmente. Poi questo è il seriale del processore 1.8 GHz DDR4 1 GB, il Wi-Fi 2.4, 2.4 Bluetooth, poi... Cosa abbiamo? Vabbè, questo sostanzialmente. Sì, caratteristiche alla fine quelle là andiamo a vedere. Per quanto 200 grammi è anche abbastanza leggera per quanto riguarda la console. Sì, di questa non c'è, non c'è tanto da dire, era semplicemente andare a vedere un pochino quello che è lo schermo, effettivamente, che era quello che mi premeva di più perché non mi ricordavo, ma effettivamente in realtà mi ricordavo, era giusto. Quindi, 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 possiamo tornare alla consolina che adesso andiamo ad accendere e a spippolare insieme. Allora, rimettiamoci questo qua, accendiamo il tasto di accensione, questa ha la scocca trasparente blu, quindi andiamo a vedere molto bene il LED di accensione, poi mettiamo bene a fuoco. Gel OS è il sistema operativo, come detto, è la prima Paukid che ho, quindi è un sistema operativo che ancora non ho mai spippolato e utilizzato. Un attimino che vado a spegnere una delle luci in modo tale che ci riusciamo a vedere un pochino meglio, altrimenti abbiamo il riflesso che non ci fa vedere una cippola e poi cerco di mettere eventualmente a fuoco in modo più decente, se ci riusciamo. Ok, ecco qui. Allora, abbiamo avviato, mettiamo la camera un po' più in qua in modo tale che riuscite a vedere anche meglio. Allora, signori, vi faccio vedere e andiamo a vedere un pochino quella che è la panoramica, magari nel mentre teniamo in considerazione, se riesco, la batteria, siamo al 97%, che anche questo è un test che possiamo fare, mentre spippoliamo vediamo nel mentre di quanto si consuma la batteria. Al momento è al 97%. Allora, abbiamo i vari emulatori, come un po' tutte le console di questo genere. Naturalmente, ragazzi, questa qui è una di quelle console budget, quindi arriva fino ad un certo punto. Abbiamo visto console anche più costose, abbiamo visto console che vanno ad emulare anche PlayStation 2, Gamecube, eccetera, eccetera. Questa qui si ferma prima, naturalmente, perché voi di solito le fasce di prezzo, naturalmente, vanno anche in proporzione a quelli che è l'hardware interno. Quindi, con questa qui, vediamo dove riusciamo ad arrivare, ma PS1, testiamo un pochino e vediamo un attimino com'è la situazione. La versione che ho io è quella con 128 GB della SSD. Vi faccio una cosa, che vi metto il focus manuale, così vediamo se è più comodo. Tanto più o meno rimaniamo a questa distanza. Quindi, quella con 128 GB ha 20.450 giochi, che naturalmente noi abbiamo lì in libreria. Così è arrivata, la testiamo, poi ci organizziamo. Allora, no, in realtà, allora, calcolate che questo qua è molto più soft di quello che vedete nella camera. Io ho dovuto mettere la luminosità bassa di questo, la luminosità bilanciata di quello, quindi lo vedete più sparato, ma è successo anche con l'altra console. Vi ricordate che nell'altra console che abbiamo visto, la Lambernic, c'erano i LED intorno agli analogici. Voi li vedevate sparati a mille, ma naturalmente sono minimamente visibili, tra virgolette. Cioè, se la mettete così, vedete che non è che è sparato. Qua è sparato perché giustamente sta in questo modo a riprendere. Quindi, in un modo o nell'altro, dovevo bilanciare un pochino quelle che sono luminosità e quant'altro. Comunque, andiamo a vedere un po' la lista di quelli che sono i sistemi emulati. Abbiamo il Nintendo DS, Game Gear, Arcade, PC Engine, il MAME, System 2, Capcom, Sony PSP, Mega Drive, Dreamcast, Genesis, MSX2, Final Burn Neo, Super Nintendo, Neo Geo Pocket, Nintendo Game Boy Advance, ok. E non solo, in realtà, mi sembra che ce ne dovrebbero essere anche altri. Poi andiamo a ricontrollare. Perché, apparentemente, una cosa che avevo visto è, a volte, quando vai a rivederli così, non te li da tutti gli emulatori, ma in linea teorica, fammi vedere se li riaggiorna o se spegnendo e riaccendendo. Sì, perché pure prima l'avevo accesa e tutto, ma non facciamo così. Mandandola con un click qui sopra dovrebbe andare in Standby. Così, invece, torna all'accensione. Penso di doverla riavviare per far rileggere tutto quanto. Calcolate, ragazzi, che se avete qualche problema con SD, perché l'altra volta è capitato a un ragazzo che aveva un problema con SD, contattateli per email, mcdi, io anche, alcune volte, per chiedergli delle cose o altro, li ho contattati. E se c'è qualche problema, voi contattateli tranquillamente per far... Se c'è qualche problema o altro, c'è l'assistenza e quindi... Controllano il tutto. Allora, fatemi vedere una cosa, perché non so se è... Allora, Networking Game Setting... Un'altra cosa, andiamo a vedere anche nel menu e poi facciamo un riavvione tecnico-tattico, perché l'altra volta che l'ho avviata erano più emulatori, quindi o LSD, che è un po' così, o è da vedere. Comunque, andiamo a vedere il menu principale da cui ci si accede nella schermata principale. Abbiamo Game Setting, dove possiamo andare a fare l'update della lista dei giochi, che non faccio adesso perché potrebbe risolvere, ma potrebbe anche metterci un'ora e mezza. Questi sono i vari filtri. Allora, come detto, questo GelOS è la prima volta che lo vado ad utilizzare. Shader Set Filter... Ok, latenza, Retrocinement, Netplay Setting... Ok, Game Collection Setting, andiamo a vedere. System Display 30... Ah, vedi? No, però qua ci stanno, vedi? In quelli che ci stanno? Ok, sono quelli che ci dovrebbe far vedere. PlayStation Portable, Ports, Scam... Non tutti, ma questi qui ci dovrebbero essere tutti quanti, quindi... Poi andiamo a vedere. Automatic Game Collection... Ok. Poi si possono creare... Io spippolo insieme a voi naturalmente la parte del... Retrocinement, vabbè, queste volendo sono... Vertical Arcade Action... Compilation Demo, Vari, Pinball... Ok, se noi selezioniamo tutti... Ok, facciamo così, Back... Poi, poi, poi... Vabbè, ce li mette in ordine alfabetico... Questo anche per scoprire un attimino le robette che ci sono... Vediamo, adesso proviamo a vedere un attimino... Però mi sembra... Vedi, no? Adesso, avendo selezionato molte cose in più... Probabilmente escono... Vedi, pure qua... Se andiamo... Mettendoli così, forse... Ne abbiamo messi randomici che non ci sono... Però poi andiamo a... Rifare un... Riavvione tecnico, tattico... Perché, vedi... Ti vede dei giochi, ma è come se non vedesse la... Non so se è per la microSD, onestamente... Poi facciamo, come detto, un'altra... Un riavvione tattico... Allora, questo è, penso, per cambiare anche il tema... Sì... Quindi qua, come sempre, potete andare a cambiare il tema del... Della console... Vedete... Ah, vedi che però adesso è uscito questo... PlayStation... Ah, forse era in quel tema che c'era un... Nintendo 64... Forse era il tema che era... Un po' così... Ok... Questi... Te li fa vedere tutti... Quindi c'erano, ma semplicemente non... Non apparivano benissimo... Naturalmente, come detto, si può collegare anche a internet... Quindi si può... Vedi, il Dreamcast per dire non te lo faceva... Quindi abbiamo risolto così, cambiando il tema... Meglio ancora, così non dobbiamo riavviare per niente... Vertical Arcade, Retro Achievement, Last Play... Ah, ok... Quindi era il tema, quello là... Quindi se di base avete quel tema... Eventualmente potete anche schippare in un altro... Che questo qua è un po' così... Allora, lista ok... Per quanto riguarda la lingua... C'è anche l'italiano... Possiamo mettere l'italiano... Mettiamo l'italiano... Ah, vedi... Switch A e B Button... Questo in realtà non... Facciamo... Eh sì... Allora, ad esempio... Ecco... Una cosa... Vedi che qua ti fa vedere... L'opzione di switchare il tasto A e B... Io adesso sono andato in automatico... Con... Per tornare indietro e per andare avanti... Però se ci fate caso... Qua sotto per andare indietro ti dice A... Invece per andare indietro è B... Quindi effettivamente voi volendo... Potete fare questo... In modo tale che... Per andare indietro ti dice A... E poi è giusto... Nel senso... Gli ha switchati... Io adesso non lo faccio perché in realtà vado a memoria... Però una cosa... Ecco... In setting... We setting... Andate a switchare tra A e B... In modo tale che combacino con questi qua sotto... Quello di base è così... Perché magari uno è abituato con... O il... Il pad Xbox... O il pad Nintendo... C'è la modalità desktop... Retro arc FPS... Screen saver setting... Allora di roba da vedere... Nelle impostazioni ce n'è veramente... Veramente tanta... Ma veramente tanta... Riuscite a vedere bene? Ed eravamo qui... Controllers... Puoi collegare anche quelli bluetooth... Per il semplice fatto che... Vi ricordo... C'è l'uscita HDMI... Quindi voi potete collegarla ad una tv... Mettervi con il pad... Eh... Bluetooth... Sostanzialmente... E giocare in modalità desktop... Ok... 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 Sound setting... Scrapper per le... Ah... Emulation restart... Ah... Per cambiare la... Guarda... Allora facciamo una cosa... Lasciamo inglese... Se no deve... Abbiamo... Facciamo... Facciamo il nostro signori... Facciamo il nostro... Allora... Vediamo un pochino... Di giochi... Signori... Come detto... Se andiamo su tutti i giochi... Ci sono 20.450... E... Vediamo... La listona... Così... È figo però... Sto tema... Se devo essere onesto... Vari strategie... Sport simulazione... Io adesso... Ho messo tutto quanto... Eh... Ho messo tutto quanto... In questo modo... In modo tale che ti fa... Le categorie... Anche per genere... Ma di base non c'è... Eh... Allora... Super NES... Abbiamo... Super Famicom... Sega... PSP... PlayStation... Poi andiamo anche quelli un po' più... Prepotenti... Allora... Vediamo... Nintendo... Cosa abbiamo? Il NES qui... Yes... Vabbè... Il NES non ci sono problemi... Però una partitina ce la facciamo... No? Mo' con la luminosità... È un po'... È sempre un po' difficile regolarsi... Però... 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 Allora... Possiamo fare... Qua potete andare a vedere... Non so se riuscite a leggere... Grazie Madigale... Grazie per i 37 mesozi... Buon suar... Buon suar... Buon suar... Eh... Cos'è... Ciao... Eh sì... Quello sì... Eh ma... Già lo sapevo... Già lo sapevo... Che non sarebbe... Stata seguitissima... Che dobbiamo fare... Noi ci proviamo ugualmente... Ci proviamo ugualmente... Grazie... Grazie mille... Grazie per la resab... Quindi quindi quindi... Che vi stavo a dire... Qua sotto... Vabbè... Avete con... Select... Le opzioni... Potete filtrare i giochi... Insomma andare a quello che... Vi interessa... O meno... Come sempre... Micro SD con i giochi... Potete toglierla... Mettete sul PC... E ci mettete i vostri giochi... Come sempre per... Nella semplicità... Andate nella cartella dei giochi... A tipo del NES... E ci mettete i vostri giochi NES... Vi fate... La vostra libreria... Insomma fate un po' come volete... Possiamo aggiungere il gioco... Ai favoriti... E... Oppure possiamo semplicemente... Lanciarlo... E partire in una partitozza... Tipo con... La famiglia Adams... Proviamo... Vedi... C'è anche... Start Autosave... E Start Game... Perché naturalmente... C'è anche la possibilità di salvare... Per proseguire la partita... Che è una cosa utilissima... Del... Degli emulatori... Anche di queste console... Eh... Sì apparentemente... Non sono iniziati con i numeri... Quindi è una cosa... Gran... Buona... E giusta... Eh... Che è quella che ci impalla sempre il cervello... Il fatto dei... Dei numeri... Ora... Provo a girare il microfono... In modo tale che magari sentite anche da qua... Eh... Per chiudere il gioco... Se non sbaglio... Allora... Aspetta che leggiamo qui che c'è... Allora... Per chiudere il gioco... Select Start... Con Select andiamo nelle... No... Select X... Entriamo in... Eh... Retro Arc... Dove possiamo andare a... Cambiare varie impostazioni... Poi abbiamo in linea teorica... Select... Più L... Più L... Più L... Allora... Select... Così... Salva... E Select... Più L... Carica la partita... Perfetto... Comodissimo... Così si dovrebbe andare avanti velocemente... Poi vabbè... Premiamo Start... E famo... Allora... Aumentiamo un po' il volume... Fatemi sapere se sentite... Oddio... In realtà è abbastanza... Proviamo a fare una cosa... Metto al massimo... Vabbè... Io ho pure le cuffie... Quindi... Inutilmente tra l'altro... Le cuffie però... È... È un po' troppo alto così... Per me... Allora... Vediamo... E... Con Select... E... X... Come detto si va in... Nel menu di RetroArc... Ora una cosa vi dico ragazzi... Per queste console... Come vedete... Lo schermo in questo caso è... 16 noni... La maggior parte dei giochi... Che andremo a giocare... Di base... Erano... A 4 terzi... Ora qui... Te lo va... Semplicemente a strecciare... Quindi... Te lo allarga... Ti allarga l'immagine... Andandola un pochino a deformare... Dipende dai gusti personali... Ma onestamente... Io preferisco sempre... Il 4 terzi... Per i giochi... Pensate in 4 terzi... Ora magari qualcosina... Ce la vediamo così... Anche per vedere... Quanto lo va a strecciare... Perché ci sono naturalmente... Eh... Alcuni che... Insomma... Peggiorano... Parecchio... Con la strecciata... Altri meno... Dipende un po' anche da... Dalle determinate console... Eh... Però... Di base... Se volete cambiarlo... Potete fare... Come detto... In retro arc... In linea teorica... Potete andare... O in core option... Se ve lo fa fare da qua... Video... E... Non sempre sta qua... Se non lo andiamo a fare... Vedi... Preferenza aspect ratio... Già sta su 4 terzi... Ma in realtà... Non è vero... Quindi andiamo... Quando siamo qui... In setting... Generale... Questo è quello di retro arc... Se usate il retro arc... Vi rifaccio... Però siccome... In tanti vedono i video... Ma non sono appunto smanettoni... Però per qualche cosa... Ve la faccio vedere... È molto semplice... Come detto... Andate nel menu di retro arc... Questo vale un pochino per... Eh... Tutti... Tutte queste console... Quindi... Ve lo dico adesso... Ma vale pure per le altre... Eh... Tornate indietro nel menu principale... Setting... Video... E in linea teorica... In scaling... Vedete qua... C'è quello generale... Quindi quello là che abbiamo visto... Il 4 terzi... Però... C'è questo qua... Che comanda... Più su... Quindi 16 noni... Qua andate a cambiare... Mettete... 4 terzi... Ritornate in game... E ve lo mette così... Quindi se lo volete cambiare... Fate in questo modo... Noi adesso moriremo malissimo... Non ci arriva là... Allora mi vedo... Oh... Ma guarda sti... Bazzardi... Poi con... Start e Select... In linea teorica... Uscite dal gioco... Due volte allora... Ok... Adesso... Andiamo a vedere il NES... Vabbè... Naturalmente... Noi partiamo da quelle più basse... Ma poi pian pianino saliamo sempre di più... Il NES... Naturalmente... Non ci sono problemi di sorta... Per quanto riguarda l'emulazione... Adesso... Vediamo se rimane RetroArch... Con il 4... Terzi... Allora abbiamo... Nintendo 64... Vabbè... Andiamo un pochino... Neo Geo... X... Mega Drive... Vediamo qualche... C'è anche il Master System... Il MAME... O MAME... Che dir si voglia... MAME... Che fa più... Anche qui c'è la famiglia Adams... Vabbè... In realtà qui siamo sempre sugli 8 bit... Eh... Alex Kidd... Star... In Miracle World... Andiamo con Alex Kidd... Poi se avete qualche gioco... Preferenze... Proviamo a cercare... Eh... Mo facciamo un po' di cose random... Allora... L'audio è abbastanza alto... E non sembra neanche distorcere... Io come detto... C'ho le cuffie... Ma non le sto usando... Nel senso... Infatti potrei anche toglierle... Tra parentesi... Perché... Non sono utili... O meglio... Non servono... Quindi le togliamo... Allora... In questo caso... Vedete... Già è partito in 4 terzi... Allora... Qua giusto per vedere... Però vabbè... Naturalmente questi non c'è... Bisogno di... Morire eventualmente... E noi andiamo a morire... Subito... A secco... Madonna mia... Eh ma ormai... Sono entrato in quel loop... Non riesco più a passare... Eh non... Non ci passo più... Incredibile... Game over... Bravi tutti... Alex Kidd... 1010... IGN... No è bellissimo Alex Kidd... Però siamo entrati lì... Dove non dovevamo andare... Eventualmente... Potevamo evitare... Di fare queste figure... Barbine... Andandoci a infilare... In posti dove... E' meglio non infilarsi... Detta così... Eh... Vabbè comunque il Master System... Possiamo andare direttamente al Mega Drive... Allora... Mega Drive... Vediamo... Vediamo... Tra l'altro qui abbiamo... Future Game... PTRB... Genesis... Giapponese... Ok... Quindi abbiamo anche... Le versioni già postali... Alcuni titoli... Eventualmente... Eh... Torniamo al Mega Drive... Allora... Perché è andato a messa X Mega Drive... Allora... Batman signori... Il Mega Drive con Batman... Vediamo... Quei... Eh... Oddio... Non so quanti ce ne siano... Qua ce ne sono tanti... Cioè... Della serie 20.000... Tanti saranno per... Le console più retro... Eh... Naturalmente... Allora... Vediamo le opzioni... Se... Normal... Stop... Music... Va bene... Vai... Partiamo con Batman... Come detto... C'è... Select... Più questo per salvare la partita... Vedi... Esce qua sotto... Guarda che figata... Sappiamo i tasti? No... Questi... Oh... In realtà questo... Deve stare calmi... E lo schermo... Devo dire la verità... Non è affatto male... Non è uno schermo touch... Naturalmente... Perché... Anche perché... Come detto... Siamo in una fascia di prezzo... Abbastanza... Bassa... E... Di conseguenza... Però... Rende bene... Io non so se... Vabbè... Naturalmente voi state a vedere la ripresa... Della... Dello schermo... Magari io però dovrei vedere la console... Però... Devo essere onesto... Si vede bene... Fatemi... Se si fermano questi... Vorrei provare a vedere... Anche magari girando la console... Per capire... La visibilità... Visto che abbiamo preso sto... Sta strada nera... Così... Piano... Devi stare calmo... Sì... Non è male... Non è male... Non... Vabbè... Non vedete riflessi... Ma... Non ha tutto questo angolo di visuale... Insomma... Devastante... Però... Non penso che vi mettete a giocare così... Soprattutto su una portatile... Il 90% delle volte... Ce l'avete... Piazzata giusta... Immagino... Però sì... L'angolo di visuale... Non è... Ampissimo... Mamma mia quanto è bello sto Batman... I colori... No? Lo sentite voi l'audio? Perché per me... È giusto... Però... Giustamente non so per voi... Vai... Prossimo... Leggermente... Allora alziamo un po'... Oppure giro un po' il microfono... È un po' difficile riuscire a beccare entrambi... Sul Mega Drive i colori più dark... Più... Più pesanti... Più cupi... Per quanto riguarda Batman... Allora... Aumentiamo un po' il volume... Che lo vediamo da qua... La barretta... Non vedrete mai nella vita... Va bene... E... Vabbè... Mega Drive... Naturalmente anche in questo caso sapevamo che non ci sarebbero stati problemi... Però... Diamo un'occhiadina anche a qualcosa del Mame... Mame... Allora... Vediamo il Mame... Cosa abbiamo... Attenzione... Le mille miglia... Quanto stretta... Eh... Quello mi sa che... Vediamo un attimo... È giusto per dare un'occhiadina anche se qua a voi... A voi... A spippolare... In questo caso come detto sono in ordine alfabetico... Cosa buona e giusta... Poi naturalmente voi potete andare con... Ypsilon... E cercate il gioco che vi interessa... Per fare una cosa... Più veloce... Se volete... Io adesso sto spippolando un po' così per... Tanto per... Siamo ancora là... Qui addirittura c'è anche l'immagine della PCB del... Del gioco... In alcuni c'è la confezione tra virgolette... Quando non parli non si sente perché c'è la cancellazione... Ah... Forse è possibile... È possibile anche quello... Questo non lo conosco... Proviamolo... Proviamo... Proviamo giochi che non conosciamo... Perché se andiamo sempre sui soliti... Poi... Tanto comunque... La... L'emulazione... Anche per il mame... O meme... Va senza problemi... Saluto... Saluto a chi va... Vediamo... Vediamo... Vai parti... Parti... Ok... Credo sia uno di quei giochi devastanti... Questo... Questo... Anche qui abbiamo il buon... Ehm... Retroarch... Cos'è? Non ho la più palida di che gioco io abbia selezionato... Ma credo che non sia... Ehm... Ma come... Li pestiamo con la bici... Ma è bellissimo... Aspetta che devo... Voglio cercare di mettere... In modo tale che... Sta a fuoco... Così sta a fuoco... Senti il sound poi... No sto gioco non lo conoscevo... Ma senti pure la music... Oh porco 2... Mi ha rotto la faccia... Ripia a bici... Te salgo su... Minchia... Oddio... Ho preso un pianoforte sui denti... Ah abbiamo o pattini... O bici... Insomma... Pestaggi on the road... Tanta roba signori... Allora la cosa che vi dico è che voi lo vedete con i colori un po' più piatti... Nel senso... Ma questo vale per tutte le console... Lo vedete già dal colore della scocca... Che non è... Se andate al link... Del sito... Vedete com'è più... Guarda che chicchettine... Aia... Dove lo saltare... Questo ce lo segniamo signori... Non lo conoscevo... Senti il sound poi... Aspetta... E' difficile... Mettermi preciso per... Porco due me stanno a rincoglioni di cazzotti... Sti pezzi de' merda... Ma che è? E dai eh... Ma levate... Mamma mia... Se ci piava c'è un cojonino... Così dovrei mettermi però... Oppure se mi metto così... Mettiamo a fuoco meglio... Ok... Va bene... Anche qui torniamo... Oh... Attenzione... Abbassiamo un po' il volume... Che qui eravamo partiti... A cannone... A cannolo... Allora... Allora... Dai mo' andiamo... Su... Qualcosina... Super Nintendo e PC Engine... Va vista... Va vista... Per forza di cose... Quindi... Allora... Game Gear... Game Boy Color... Game Boy Advance... Eh... Ce n'è di roba... Dreamcast... Eh... Anche il Neo Geo... Signori... Tanta roba... Abbiamo... Allora... Vediamo al volo qualcosa... Del Game Boy Color... Dai... Attenzione... C'è anche qui del tennis... All Star Tennis... Incredibile... Vai... Andiamo con lo Star Tennis... Non... Non... Certo uno dei... Dei caposaldi... Vedete l'effetto... Pixel anche... È di Ubisoft... Attenzione... Vedi... Effetto... Non si vede la grana del pixelone... Che la fa appunto... C'è il... Il filtro perché immagino... Appunto... Quando andate poi in RetroArc... Qua comunque potete mettere tutti i vari filtri che volete... Come sempre non è che rientri... Riandiamo sempre a rispipolare tutto... Però qua... Potete modificare tantissime di quelle cose che... C'è da perdersi... C'è da perdersi... Però una cosa che faccio... Onestamente... Anche qui il... Eh... Dov'era? Scaling... Beh... Sul Game Boy il 4 terzi... Quello che è 4 terzi... Signori per me deve rimanere 4 terzi... Attenzione... Eh... Smash Tennis... Solo per dare un'occhiata... Single... Vai... Vabbè... Ma chi abbiamo... Mark Filippo... Sì... Vai... Vai... Vabbè qui non è che ci siano problemi di emulazione o altro... È giusto per... Per dare un'occhiata... Per dare un'occhiatina... Guarda sempre io... No... Minchia... Do cazzo ho tirato proprio... Questi erano i classici... Il classico pubblico... Gli applausi... Ecco... Niente... Ce l'ha ribaltato... Dei titoli di... Tennis... Anche io avevo un altro gioco del tennis per il primo Game Boy... E gli applausi del pubblico erano gli stessi... Senti? Erano uguali... Incredibile... Ehm... Vai di nuovo... Sì... Il marchio Ubisoft era molto figo... Erano molto più colorati anche i marchi... Una volta... C'era più colore... Allora... Ritornare al menu principale... Non è velocissimo... Questo gel OS... Te dico la verità... Non è immediato... Vediamo... 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 Poi andiamo anche sul Dreamcast... Anzi... Andiamo direttamente sul Dreamcast... Dai... Iniziamo a vedere qualcosa sul Dreamcast... Allora... Crazy Taxi... È il classico che andiamo a provare... Io lo andrei a provare... Crazy Taxi... Però vi dico subito che... Metropolis Street Tracer... Voglio provare qualcosa di diverso... Per il Dreamcast... Per esempio... Sentivo qualcosa di veronica... Ma per il semplice fatto che c'è sempre il copyright... Pesante... Proviamo MSR... Metropolis Street Tracer... Qui già... Un po' più pesantino... Ci siamo... Naturalmente... Rispetto a quello che abbiamo visto fino a ora... Vediamo come... Come gira anche il Dreamcast... E... Poi vediamo anche il Nintendo 64... E... PlayStation... Che... Penso... Facciano un po' più di fatica... Naturalmente... Perché... Come detto... Ehm... È una console molto più... Budget... Rispetto ad... Ad altre... Local... No... Il tempo locale non è corretto... Però... È... Non ho settato l'orario... Però va bene... Ehm... Continuo... Va bene così... No... Dai... Senti il sound... Senti il sound... Ci faccio andare in gara... Su via... Buon uomo... Siamo curiosi di vedere come va... Come gira il Dreamcast... Single player... Single player... New game... Va bene... No... Va bene... Ci interessa... Vai avanti... Porco... Due... Allora... Ci chiamiamo... Uno... Nickname è... Due... E il cognome è... Zero... Uno... Zero... Detto due... Continuo... Vai senza salvare... Sì 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 sì... Vogliamo solo provare a gareggiare... Mi scusi... Scusa... Anche se... Magari la musica anche un po' meno... La musica nel menu... Un po' meno... Un po' meno... Sbagliato... Garage... Non abbiamo niente... Incredibile... Attenzione... C'è la Fiat Barchetta... L'Opel Astra Coupé... Megane... Aspetta... Spider... Ma abbiamo dei soldi... Noi? Posso prendere... Direi... Zero... Zero... To test driver... Challenge for car... Ok... Eh... Ma mi devi di quanti soldi c'ho? Scusa eh... Non è per qualcosa... Vai proviamo... Proviamo il test drive... Con la... L'alfetta... Eh... Ne abbiamo beccato uno... Che è un po' troppo lungo... Nell'introduzione... Onestamente... Quindi... Siamo a Shibuya... Come accelero... Retromarcia... Così guardiamo indietro... Non me lo aspettavo... Vediamo... Provo tutti i tasti... Come cazzo... Rimetta il visuale... Così vai... Vai... Oh... Merda... Merda... Allora... È abbastanza piccolina... Quindi quando ti trovi a usare gli analogici... E questi grilletti... Ti trovi la mano un po'... Strettina eh... Devo dire la verità... Probabilmente... È più comoda... Quando utilizzi questi così... Perché... Stai con le mani... In questo modo... Mentre... Quando stai così... Con questi... C'hai la mano un po' più... Accartocciata... Noi... Io naturalmente... Vi dico anche le mie impressioni... Lato... An... Utilizzo... Eh... No... Stiamo a fare un macello... Ma non vedo un cazzo... Aspettate... Sì... Utilizzando i grilletti... E l'analogico... Eh... Non è comodissima... Se devo dire la verità... Eh... Perché è molto piccolina... Quindi... Stai... È molto sottile... Diciamo... Da questo punto di vista... Quindi te ritrovi un attimo... Impiastrato... Con le dita... Facciamo vedere le mani grosse... Potrebbe essere problematico... Attenzione... Sponsor... Allora... Però... Per quanto riguarda le prestazioni... Non mi sembra che abbia problemi... No... A parte la mia guida... Che... Quella si ha problemi... Ma non si vede una se... Cioè... Non riesco a capire dove devo andare... Sì... In giochi del genere... Si fa più fatica... Devo dire la verità... Eh... Perché essendo molto... Stretta... Quindi ti ritrovi con la mano... Un po' più rattrappita... Allora... Allora... Andiamo a vedere... Anche qualche altra cosa... Al lato... Cosa abbiamo... Cosa abbiamo... Last spread... Ok... Favoriti... Ok... Ok... Strategia... Queste sono le categorie... Che ci ho aggiunto io... In modo tale... Che me li faccia vedere... Anche per genere... Però ne rimaniamo qui... Allora... Super NES e Super Famicom... Attenzione... Abbiamo... Qui ne abbiamo 451... Qui 1.230... Allora... Qua andiamo... Vabbè... Pure il Super Nintendo... Super Nintendo è perché è spettacolare... Perché poi... X-Men Mutant... Apocalypse... Apocalypse... Questo mi sa che ce l'ho... Questo ce l'abbiamo signori... Ce l'abbiamo lì in libreria... Vuoi paragonare la Switch... Forse per far vedere le dimensioni... E... È molto più piccola... Sarà la metà... Come... Come grandezza... Non riesco a metterla a fuoco... Però... Vedete se riesco... Calcolate la Switch è così... È molto più piccola... Quindi... Eh... Ti ritrovi un po' più... Rattrappito con le dita... Magari... Ma anche quando abbiamo visto... Dove è? Ah no... Non ce l'ho di là... Vabbè... No no... È molto compatta... Eh... Non so dalle immagini... Se si riesce a vedere... Però... Paragonandola in questo modo... Si si vede che... È piccolina... È piccolina... Cioè... Come detto... È come... Questa è la mano... Io... Magari dalla prospettiva... Non si vede però... È una mano... Credo anche più piccola della Lite... No... È molto più piccola della Lite... Questo qua ce l'ho... Sto gioco di... X-Men... Il Super Nintendo è il Super Nintendo... Eh signori... Vediamo qua i tasti come sono messi... Il Super Nintendo è tanta roba... Signori... Ancora... Ma... Sei ancora morto... L'immortarci... Tu... Questa è molto calmino... Vediamo qua... Non ci siamo arrivati... Aspetta che non è a fuoco... Incredibile... Ah no... Perché giustamente... Aspetta... Porca puttana... Avevo messo il fuoco automatico... Il fuoco automatico... Come cazzi suon così... Non è giusto... Merda... Dall'altro lato... Come cazzo si faceva qua... Non mi ricordo... No... Eh niente... Saremo morti male... Madonna... Il motorino sui denti... Bravi tutti... Bravi tutti... Allora... Passiamo a console più complicate da emulare... Vediamo come si comporta... Perché effettivamente è quello fin dove possiamo spingere... Che ci interessa maggiormente... Perché poi... All'altro pratico... Queste qua non è che ci siano problemi... E per farci una partitozza... Noi naturalmente... Allora... Possiamo andare a vedere... Anche PlayStation... PC Engine... Attenzione anche il PC Engine... Bello pure il PC Engine... PC Engine pure c'ha... Delle robe straordinarie... Poi vedremo cose anche sul PC Engine... Signori... Molto figo pure il PC Engine... Eh... Va bene... Andiamo su PlayStation... Ma... Allora... PlayStation... Vediamo cosa abbiamo... A parte i picchiaduri... Che magari sono un po' più... Semplici... Abbiamo qualcosa di più complicato... Complicato dal punto di vista... Ecco... Forse un Crash Team Racing... Che è abbastanza veloce... Si potrebbe provare... Attenzione c'è Driver... Non c'è la miniatura... Ma che fai... Non lo provi Driver... Se c'è... Forse non c'è la miniatura... Perché non... Non funziona la ROM... No... Cioè... Anche qui signori... Io onestamente... Andrei sempre in 4 terzi... Mi scusi... Eh... Scaling... Onestamente... 4 terzi... Tutta la vita... Per i giochi che sono 4 terzi... Si può? Qui vediamo... Se ce la fa... Perché come detto... Essendo una console abbastanza budget... Oddio... Qui ci dovrebbe arrivare... Non vorrei dire... Però... Dovrebbe farcela... La verità... Tanner... Che... Vabbè... Questo sarà inglese... Che figata... Settiamo anche un po' l'audio... Per vedere... Perché se gracchia l'audio... Poi... Potete... Tra l'altro... Come sempre... Io ve la faccio vedere... Così come arriva... Perché poi... Quando andate qua... Nel... Il retro arc... Potete mettere... A parte i filtri che abbiamo visto... Per... Le proporzioni... Potete anche andare a settare... Tante cose... Come i filtri... Per renderlo più veloce... Eccetera... Poi ogni gioco ha le sue... Ehm... Anche i suoi settaggi... Cioè c'è un mondo dietro della serie... Come far girare al meglio... Che ne so... God of War qua... Questo e quell'altro... Eccetera... Eccetera... Ehm... Vai... Facciamoci il tutorial... Cioè il tutorial... Cosa del parcheggio... Che non riusciremo naturalmente... A fare... Perché non mi ricordo... Sentite voi... Va bene... Va bene... Giusto per... Poi ci andiamo a fare un giro... Anche eventualmente... Però era da provare... Era da provare... Giusto per... Ritornare in quel parcheggio... Andiamo... Attenzione... Com'era... Merda... Eh lo so... Abbiamo fatto i danni... Poi c'è da fare il giro... Piano... 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 Break test... Il primo colpo... Il primo colpo... Abbiamo fatto... Tutorialone... Da panico... Ehm... Ehm... La P1000 di Simmagic... Forse la P2000... Attenzione... Ehm... 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 Non lo so... Di riaccendere il DS... Fatto bene... Matto... Fatto bene... Ehm... Felloni... Fellone... Italiano... No... Però la PS1 va... Mamma mia... Che gioco che era Driver... Che spettacolo... Tutte queste strade dritte... Con curve a 90 gradi... Straordinario... Con la police che dovevi... Fare così... In modo tale che si schiantava... Incredibilmente... Sugli... Gli altri... Bellissimo driver... Mi ricordo ancora... L'ultima missione... Me la ricordo anche perché... Le bestemme che ci ho lanciato... Potete solo immarginarle... L'ultima missione era... Veramente tosta... Ricordo che tu dovevi fare... Praticamente tutta la città che... Ti inseguiva... Il 90% della... Delle auto... Disponibili... E dovevi entrare in un garage... Sotterraneo... Dall'altra parte della città... Non facile... Non facile... Oh... Bellissimo... No... Comunque... Va... Va... Merda... Questo quando GTA era ancora in 2D... Dall'alto... Si vola... Si all'epoca era... GTA... 1 e 2... GTA London... Qualcosa... C'erano su PS1... Quindi questo era... Tanta roba... Abituato a GTA... Eccetera eccetera... Ma all'epoca GTA non era questo... Era con la visuale dall'alto... Che era... Tra l'altro... Comunque un gioco spettacolare... Porco 2... Vabbè... Comunque niente... Se no passo tutta la serata a giocarmi Driver... Bellissimo... Bellissimo... Un let's play su Driver ci starebbe... Peccato che sarebbe problematico finirlo... Tra l'altro anche su PS2 c'era un gioco che ho... Che è Stuntman... Che era dagli stessi sviluppatori di Driver... Alquanto bastardo anche quello... Ma pure quello ho finito tutto quanto... Bellissimo... Provare a vedere... Qual era il gioco che avevi detto prima? Driver ho fatto almeno 7-8 volte... No... Driver una volta sola l'ho finito... Cioè una volta sola l'ho giocato... A parte queste partite così che ti fai tipo la prima missione e poi basta... Però Driver effettivamente l'ho giocato una sola volta... E l'ho finito... Quando ero uscito all'epoca... E poi come detto anche Stuntman che era degli stessi sviluppatori per PlayStation... 2 pure quello... Lo giocai all'uscita e... Bello bello... Un po' di roba PS1 c'è... Comunque... Poi naturalmente si può... Attenzione... Silent Hill... Solo... Solo per sentire un po' il sound di Silent Hill dai... Stuntman bello bello... Stuntman ce l'ho... L'ho giocato proprio qualche settimana fa... Mi sono rifatto una partita... E mi stavo infognando a bestia... Difficile pure quello è... Come... Come Driver... Questo lo lasciamo a 16 noni dai... Giusto per non riandare di nuovo là... Stuntman molto bello... Mamma mia... Senti pure quest'altro sound... Per carità e sono invecchiati veramente male i giochi PS1... Rispetto magari a quelli Super Nintendo... Continuo a dire... E anche al Mega Drive eccetera... Però... Tanti ricordi... Tanti ricordi... Ora... Giocarli è un po' un dito nel culo... Tanta roba... Tanta roba... Tanta tanta roba... Tanti ricordi... Tanti ricordi... Tanti ricordi... Tanti ricordi... Tanti ricordi... E' un problema... Give it aindre aiICHE... Mamma mia Qui l'audio un pochino Cioè era particolare l'audio del gioco Poi il fatto della nebbia Per il semplice fatto che la Playstation 1 Non ce l'avrebbe fatta a mostrare Un panorama del genere Dettagli eccetera eccetera Quindi Mamma mia Salientil Che spettacolo pure questo Come detto a giocarlo adesso Insomma un po' Un po' così Ma all'epoca ci Ci tenne sulle spine Ci fece cagare sotto Non poco La nebbia Le sirene I fottuti piccioni Che ti prendono a calci sulla testa Quando sei nella nebbia I cani Hai voglia Tanta roba pure questo Dai Se no poi ci stiamo qua Serata retro con Silent Hill E Sono di Silent Hill Da un mio amico PSP o PS2 Non ricordo PS2 c'era il secondo Il terzo Su PSP Non mi ricordo Andiamo a vedere Andiamo a vedere anche La PSP Che in linea teorica A livello di proporzioni È giusta per questa console Vediamo però Se ce la fa Perché naturalmente La PSP è un po' più Prepotente Della PS1 Quindi Voglio cercare qualcosa Di un Ecco Flat out Vabbè God of War È sempre bello pesante Gran Turismo Grand Theft Auto Initial D Addirittura Giapponesi Quindi non ho mai giocato MotoGP Allora signori Quasi Aspetta Proverei un MotoGP Di che MotoGP Di che anno Vediamo Stiamo giocando a MotoGP 2024 Vediamo un MotoGP Che sarà 2000 Quanto può essere 2003 2004 2005 Forse Anche Vabbè Non salvare Tanto noi abbiamo Il salvataggio Bello fresco Continua Si continua Si si continua Continua Questi qui Te lasse Ah no Perché io sto Scusa Ho sbagliato io Cliccavo questo Perché Per confermare Però PlayStation E questo Per confermare Ho sbagliato io Continuavo a premere Questo Giustamente Perché Non stavo Abituato Player Va bene Player Salvare Guarda Ha messo pure L'italiano Come Come hai fatto A capire Che sono Italiano Da Da cosa Da cosa Da cosa L'hai capito È passato All'italiano Così In un attimo Come mai Come Come ha fatto Come ci ha scoperto Ah no Era una Fintus Allora Allora Mia La musica Me la Abbassi Screensetting Vabbè Vabbè Poi vediamo Mil Chilometri Mi scusi Me l'hai salvato I chilometri No Perché non ho Cliccato Allora Allora Va bene così Dai Va bene così Facciamo Una gara Normale Yamaha Repsolonda Tensione Vai con la onda Andiamo al Mugello Due giri Tensione Rossi Gibernau Max Biaggi Aiden Hopkins Capirossi Melandri Cica Nakano Mamma mia All'epoca Seguivo di più La MotoGP Eh La PSP Insomma Un po' Agicolato Attenzione Qualche rallentamento Ce l'ha Merda 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 Scusate Scusate Sì Una PSP Mazza Che sound Occhio Piano Non so se Le freccette Che mi trovo Meglio Se no Mi si incarta Nei dita Non è comodissimo Con le freccette Però Un po' Con l'analogico Vediamo se Scusate Poi vedo se mi sono perso qualcos'altro Sì ha dato quelle due laggate all'inizio Quando ha caricato la gara Quello sicuramente se andiamo con God of War Lì rallenta Ma God of War per PSP è pesantissimo È veramente una roba Pesantissima Oh però vabbè E come usciamo da qua mi scusi Questo è un problema Non è sempre su No eh È un altro tipo di emulatore questo E qui tocca capire come si esce dal Interessante Senta Come facciamo un resettino Così Facciamo un resettino Non so da PSP come funziona il emulatore Si guida meglio di alcuni MotoGP usciti di recente Quello di quest'anno no Però già quello dell'anno scorso si si guida peggio Apparentemente sì Ho fatto un resettone perché onestamente non mi ricordo La combinazione di tasti Quindi siccome stiamo a fare un po' taldi Ci proviamo Cosa c'era rimasto da provare L'intento 64 L'intento 64 Anche possiamo andare a vedere E Vediamo 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 Poi qualche serata Poi qualche serata ce la facciamo Retro game Con richiesta dal pubblico Dei giochi da provare Però vabbè Magari non lo facciamo Quando proviamo con queste qua Ma ci mettiamo un po' più comodi Con E Un emulatore a schermo E via Per carità Questa qua come detto Uscita HDMI Metti allo schermo Ehi fatto Ehi fatto Eccolo qua L'intento 64 Cosa abbiamo Cosa abbiamo Pure qua c'è il del tennis Attenzione C'è stanno parecchi anche qui Attenzione Carmageddon Vai con Carmageddon Vediamo come va anche il Nintendo 64 Poi Proviamo Vabbè Per PSP Grazie Grazie Bizzio Grazie per i 42 Grazie mille Grazie per l'Aresab L'italiano non ce l'abbiamo Ma che L'italiano sempre Distrattato Abbasso un po' il volume Che però Mi sta rintronando Vai Posso? Posso? Qui Qualche Rallentamento Anche c'è 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 Non tanto rallentamento Ma sento un po' Gracchiare L'audio Si Si Poi ogni versione Vabbè Naturalmente Su Addirittura Perché Poi dipendeva Aspetta Abbasso un po' Che mi sta Rintronando Dipendeva Dalle versioni Ed effettivamente La versione Nintendo Perché comunque Su Nintendo 64 Insomma Potevo Imettere Le persone Con sangue E tutto E quindi Che ci hanno messo Mi sa che Sono tipo i dinosauri Che non esce il sangue Ma il Fumo verde In alcune versioni Avevano fatto con gli zombie Che usciva sempre Il fumetto verde Su PC C'era la versione Non censurata Quindi con Questi di persone E splatteravano sangue E quant'altro Aspetta Di qua In questo caso Però gira Un po' Pochino La macchina Proprio Sto sbagliando Qualcosa Oh mi scusi Mi scusi Non è colpa mia È Il rinoceronte Lì che si è Ok Il colore Settava Scusate Sì Qua La versione Nintendo Non sapevo Che nella versione Nintendo 64 Ci fossero i dinosauri Molto bene Ninchia Trambata No Dall'altro lato Attenzione Oh Molto bene Qua possiamo Ok Qua ci sta Si era un triceratopo Effettivamente Allora Nintendo 64 Oppure mi devo fare Un attimo Una spippolata Quella Perché Nintendo 64 L'ho recuperato Però i giochi Ne ho pochi Perché effettivamente Non l'ho avuto All'epoca Anche questo È invecchiato Discretamente male Però Qualche cosa Da recuperare Cioè Dove sono andato Ah Siamo andati All'intento Allora A sto punto Proviamo pure qualcosa Nintendo DS Naturalmente Non è touch Lo schermo Quindi Se non sbaglio Si deve andare Vabbè Con l'analogico Per Selezionare O altro Asphalt Batman Proviamo un altro Batman Così siamo In Vena di Batman Ok In questo caso Non so se Si si va con Questo Per selezionare La tipologia Di Vabbè Lo vediamo meglio Dopo Così cambiamo Se mettere In orizzontale O in verticale Con questo Scegli Quale schermata Avere Credo che Sì Beh vedi Allora Quando Lo metti Così Ti mette Schermata principale Questa Metti così Ti mette L'altra Ad esempio Ad esempio Se quella Sotto Non è importante Per un determinato Gioco O altro Insomma Poi Puoi anche Sotto Togliere Uno Uno Di Quelli Ah ok Con l'analogico Vedete Avete Il Pennino Per carità Non è comodissimo Però Il 16 Noni Aiuta Per Per questo Per così Te ne mette Uno sopra Uno sotto Ma non conviene Beh poi Magari Quando Sei in fase Di Di Gioco Volendo Puoi fare Così E metti Sotto Di gioco Uguale Eh però Così Se ci parla Non vediamo Che ci dice A meno che Non clicchiamo Così E vediamo Sì No vabbè Però Aspetta A pezzo De merda Ok Ok Tiè Eh il DS Pure Non l'ho mai Avuto Quindi Ho recuperato Qualche gioco Successivamente Posso fare così Oppure Appunto Io lo sto facendo così Se no Possiamo anche Semplicemente Tenerli Entrambi R che fa Scusa Non ho capito Ah si para Ok Ok Aspetta che stavo a vedere Di là Allora Qua c'era questo Con la freccia Che è R più Vedo Dele vape Oh Eh giovanotti La console È una Paukid RG B 10 Max 3 Se non ricordo male Comunque c'è il punto Esclamativo Unboxing E trovate il link Della console Ci sono tutte le informazioni E quant'altro Oppure c'è anche Il link In Ok Molto figo Anche questo Il primo piano Allora intanto DS Cosa Nintendo 64 Ho visto Carmageddon E questo è quanto Signori Va bene Abbiamo spippolato Un po' In giro Signori Tanto per Dare un'occhiatina Ce n'è tanta Di roba Come detto In totale A parte Che ce ne stanno 20.000 di giochi Quindi hai voglia Spippolare Quindi Non è male Non è male Poi dipende Naturalmente Da Fino a che console Volete Arrivare Per giocare Però come detto Questa qui è una console Budget Come detto Lì c'è il link Poi calcolate che c'è Lo sconto del 17% Se usate il codice QTA Quindi da Che era Mettendo L'identica Combinazione Che ho io Sarebbe 119 Con il 17% In meno Ok Se Ritrovo Era 119 Yes 119 dollari Tra l'altro Sempre tutto compreso Non c'è spedizione Dogana Allora Non Alcune mi hanno convinto Di più Vi devo dire la verità Questa qui forse Per quanto riguarda L'ergonomia Non lo so Non lo so Per quanto riguarda Poi I titoli Che ci girano E quant'altro Io Tra queste magari Fatemi vedere una cosa Perché noi abbiamo preso Pure la mio mini plus Che in realtà Poi dipende anche Certo Alcune girano meglio Alcune girano meno Questa è un po' più In là Girano un po' meglio Rispetto a quella Non agli analogici La mio mini plus Eccetera eccetera Però ci sono anche Delle Amberni Che avevamo visto Che però Forse costicchiano Un po' di più Se non ricordo male Però Tra Tra le tante Non mi ha colpito Tantissimo Questa Devo essere onesto Non mi dispiace Ma Tra Tra le varie Che abbiamo provato Certo c'è sempre da vedere Il livello di prezzo C'è sempre da calcolare Quello Perché questa qua Comunque È un centinaio di dollari Ci sta Ci sta Come console Però Volendo Andando a Spippolare Magari O spendete qualcosina in più Per arrivare a qualcosa Consiglio mio personale Poi Oppure Qualcosina in meno E magari rinunciate A determinati titoli Dove Magari non potete usare Neanche gli analogici O altro Quindi Però in generale Non è male Fa il suo Fa il suo Ha anche l'uscita HDMI Che non è male Perché Come detto Questi giochi Oddio C'è da calcolare Anche sta cosa L'HDMI In uscita Non ce l'hanno Tante console Effettivamente Questo è un plus Che secondo me È anche abbastanza Importante Per il semplice fatto Che Puoi Appunto La piazzi così Ci attacchi L'HDMI La metti allo schermo Ci colleghi Un paio di Joystick Bluetooth E ti metti a giocare Con gli amici Anche quello È il plus Nel senso Ti porti una Mini console In giro E poi magari Ci giochi con gli amici Con attaccata alla tv Ci sta C'è una immagine Nel sito Ah qui Se si sceglie la versione 64 Compare immagine la microSD La 128 Se si sceglie quella La 128 Compare Eh vabbè Avranno sbagliato Qualcosa Nell'impaginazione Però vabbè Comunque Sapete che se Quella che scegliete No A me in realtà Non è sbagliato Se scelgo 16 Se scelgo 64 Esce 64 Se scelgo 128 Esce 128 Ah no In quella blu È sbagliata In quella gialla No Ok Evidentemente Hanno collegato male I due link No io stavo Sulla pagina Di quella gialla In realtà Però sta di lato Quella Sì Quelle altre Hanno invertito E Però Naturalmente Vabbè È solo un errore Di impaginazione C'è il plus Di poterlo giocare Anche sullo schermo esterno Effettivamente Quello è un po' Da considerare Il fatto che avete Due SD Di cui Una coi giochi E una col sistema operativo Me la spippolerò un pochino Me la spippolerò un pochino E prossimamente Vedremo anche qualcos'altro Made in Powkiddy Vediamo un pochino Perché Come detto È la prima Di questo marchio Che provo Quindi Magari provandone un pochino Ti riesci anche ad abituare Un pochino Alla tipologia Di console E quant'altro Per quanto queste quasi Console cinesi Un pochino Si assomigliano Tutte Poi chi è più potente Chi meno Però Alla fine Bene o male Le cose che andiamo a vedere Sono quelle Poi Sono gli accessori Un po' In più Le opzioni in più Tipo l'HDMI L'ergonomia Questa a livello di ergonomia Non è il top Vi posso dire Non è il top Nel senso che Quando giocate Con freccette E questi Perfetto Perché è un po' bombata Dietro Vedete Quindi mettete State appoggiati così Ed è perfetto Quando però magari passate A qualche gioco Che necessita Di cliccare qua sopra E di usare questi qua È lì È difficile Perché devi usare Praticamente Ste dita Così per tenerla E poi Fai così Però è abbastanza piccolina Magari da stare un po' Rattrappito con la mano E Quei grilletti Le 2R2 Fanno tanta poli Spacco in zero No in realtà No Sono Sono solidi Non Anche perché Non sono neanche Grille Cioè C'hanno la forma A grilletto Però effettivamente È un pulsante Non è che Non puoi gestire Diciamo La corsa Come se fosse Un acceleratore Questi qua Troppo piccolini Se devo essere onesto Questi qua Un po' troppo piccolini Se stai giocando così Si ci arrivi Magari se stai così Oddio Magari li usi per salvare Con select E questo E select E L Però Non male Non male Qualcosa La potevano Si può migliorare Ma come detto Dobbiamo sempre Tener conto Del budget Perché noi Alla fine Io magari La posso paragonare All'ultime Che abbiamo visto Però per dire L'ambernica Che abbiamo visto Costava tipo 200 e pasta Quindi È normale Che ci siano Delle differenze Bisogna un po' Anche andare A compromessi Però tutto sommato Dai Non mi dispiace Io come sempre Vi ricordo Che potete acquistare Dal sito Con il codice Sconto QTA A me non me ne viene Niente Però nel caso Se vedono che acquistate Probabilmente ci mandano Altre console da provare Solo per quello Però sappiate che Acquistando da quel sito Non è che Non c'è nessun Reflink Quindi è solo uno sconto Per voi In cambio In cambio Nel caso Io ho la possibilità Eventualmente Di provare E portarvi Altre console Tutto qui E Prossima settimana Probabilmente Ne proveremo Un'altra Signori Grazie Minosse Grazie mille Per il 72 Grazie di cuore Grazie di cuore Per il 72 Me sozzi Sono sei anni Ammazza Ammazza E non fatico io Quando poi si arriva Al 48 Dopo Arturino Perdo Perdo i conti Grazie mille Grazie per il 72 Minosse Grazie di cuore E buon Anniversario Buona sesta Candelina Se va a scuola Praticamente Scuola di sportiveggianza Sei anni Si va E niente signori Concludendo il discorso Su Match DI Trovate il link Lì Poi magari Per chi vedrà Il video su Youtube Li lascio il link In descrizione Codice QTA Che vale però Su tutte le console Che stanno su Match DI Quindi nel caso Date un'occhiata Anche alle scorse Che abbiamo visto Fate Vobbis Fate Vobbis Ok